Il circuito di quest'anno, i parchi intorno a Expo 2015, interessa la zona che da Expo va verso ovest, verso settimo. Abbiamo pensato di fare questo circuito attraversando le aree verdi e i parchi che via via si snodano arrivando fino al comune di Settimo e oltre. Partiamo dalla metropolitana di San Leonardo, praticamente vicino a Rò, scendiamo attraverso il parco di trenno che è il primo parco, ancora un parco urbano, scendendo dal parco di trenno attraversiamo la via Novara e arriviamo al parco delle cave, un importante parco ricavato su terreni agricoli con ancora delle marcite, con ancora coltivazioni tipiche del posto. Tocchiamo la cascina all'interno che è un'importante cascina antica, ancora del 1450, dove addirittura si dice che abbia soggiornato il Petrarca. Cascina importante non solo tipologicamente ma anche perché è un presidio agricolo proprio al confine della periferia urbana. Inoltre la cascina all'interno è molto interessante perché il comune di Milano è partito proprio attraverso un progetto di restauro della cascina per iniziare un percorso di recupero e di studio di come valorizzare e rivitalizzare le cascine intorno a Milano. Dalla cascina all'interno risalendo il parco delle cave, quindi toccando zone naturalistiche che sono state piantate, coltivate, curate, ci trasferiamo verso Settimo. Attraversiamo i terreni agricoli e arriviamo al Bosco della Giretta che è un bellissimo bosco, parco urbano ormai, che è alla periferia di Settimo Milanese, vicinissimo al centro antico di Settimo dove c'è Palazzo D'Adda con affreschi della scuola del Bernardino Luini. Poi risaliamo da Palazzo D'Adda che è tra l'altro sede del comune, verso la cascina Maccazzola, una cascina importante che è una cascina praticamente urbana, anche questa, che vende latte e prodotti agricoli alla città e ha un servizio continuo. Dalla cascina Maccazzola dove avremo organizzato un ristoro con risotti e formaggi, ci trasferiamo verso la cascina Pasqualini e quindi Figgino e Bosco in città, che è l'ultimo parco che intendiamo attraversare. Ritorniamo verso la stazione della metropolitana per ritornare a Milano e riconsegnare le biciclette. Tutto questo lo potete trovare sul sito www.faivialattea.it e tutto questo è stato fatto per far conoscere ancora una volta come la città di Milano, una città industriale, una città in espansione residenziale e non, comunque ha ancora proprio alla periferia urbana una serie di aree verdi e un tessuto agricolo che può essere connesso costituire una cintura verde di grande respiro e di grande utilità per la città e per i residenti della zona.